Luchino come facciamo per stasera? Come? Cosa dobbiamo fare stasera? Come cosa dobbiamo fare? Non abbiamo il cibo Come ci manca il cibo? Fino a cucinare? Eh no, non aveva mica la carne Nooo Mi sono veramente messi male E la Lidl ha chiuso Dare fura anche Come faremo? Cosa facciamo? Cosa mi consigliate? Eh non ho idea Ho trovato Aspetta Lo sto pensando anch'io Facciamo così Guarda cosa abbiamo Con questo Andremo a cacciare Che cos'è questo? E chi saranno? È la nostra nuova arma Aspetta che sta passando un trattore Prima che Che ci scommi Tutto No, adesso è qui Una nuova invenzione Invenzione Apple Si chiama Icer Bottana Adesso inquadriamo le nostre prelie Eccole là Guarda Silenzio Andiamo Andiamo Giù Prima che ci beccano Giù 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 Passo Abbiamo le nostre prelie Qui davanti Passo Ho chiamato a Virt Non ti rispondo Virtu Rispondi Passo Passo Stasera abbiamo trovato in cibo Abbiamo le nostre prelie Le nostre prelie E lì che siamo in posizione Devi darci l'ordine Siamo in posizione Di cecchini Dacci l'ordine E noi spariremo Capito? Alle nostre prelie Così stasera mangeremo Sì va bene Dacci l'ordine Vai Io preparo le munizioni Cacchio Io ci sono Vai Aspetta C'è una tipa Di fuoco Fuoco È appena entrata la tipa Di fuoco 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 Si prende Preso Andiamo via Rilio c'è Rilio c'è Che breve Ti avrei appena l'icolo Si sta riprendendo ancora Rilio c'è Sì sì Rilio c'è Rilio c'è Rilio c'è Rilio c'è Vai vai Corri Vieni 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 qui siamo al sicuro è andato tutto a posto abbiamo preso siamo al sicuro adesso ritorniamo in base passo o chiudo aspetta aspetta attacchiamo anche loro ecco le nostre pelle andiamo avremo il nostro urlo di battaglia adesso dopo dopo il prossimo l'altro obiettivo l'altro obiettivo